La brava Vessi Osakwe si è piazzata alla quinta posizione nella finale del lancio del disco donne degli europei di Berlino, capitale della Germania. Con la misura di 59.32, Lory invece è andato alla brava Sanda Perkovic con 67.62, Argento quindi secondo posto alla tedesca Nadine Müller. E invece terza posizione, quindi medaglia di bronzo alla tedesca Cianice Kraft. Alla fine della gara, Desi ha festeggiato il quinto posto, la quinta posizione col tricolore sulle spalle. Già la finale era un sogno, così avrebbe detto a Raysport. Ci sono entrata poi anche fra le prime otto. Speravo di fare il primato personale, ma questo quinto posto mi rende molto positiva. Così avrebbe dichiarato la bella e brava e simpatica Desi. Vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, da quello che avete intuito Desi nonostante tutto va avanti per la propria strada e soprattutto non ha paura di portare alto l'orgoglio italiano. Grazie, un salutone, complimenti a Desi per il risultato comunque ottenuto. A prossimo video.